5 giorni, 6 location, oltre 40 appuntamenti legati per la prima volta da un filo conduttore, gli appunti di viaggio attraverso cui si sono intrecciati gli universi della letteratura e della musica, del cinema e del teatro, della fotografia e della danza. Si archivia così l'edizione 2017 del Cortona Mix Festival. Il bilancio è sicuramente un bilancio positivo perché si conferma la mission di Cortona che è quella di lavorare sulla cultura, sugli eventi di qualità e quindi riteniamo che sia stato un ottimo Mix Festival con dei numeri importanti, soprattutto con degli artisti importanti che hanno dato lustro a questa città e ha avuto tantissime persone che sono venute a trovarli. Tanti gli eventi e gli ospiti diversi tra loro che hanno dato vita a questa sesta edizione protagonisti dei concerti sul palco di piazza Signorelli anche artisti internazionali come i punk rockers irlandesi Buntau Rez, il cui leader Bob Geldof ha ricevuto dal sindaco le chiavi della città di Cortona. C'è stato poi spazio anche per il premio Oscar Nicola Piovani e per il sofisticato pop dei Baustel che hanno chiuso il festival. Quello che è il progetto culturale deve assolutamente andare avanti e va avanti proprio in virtù dell'amicizia, del gruppo, dello spirito di gruppo che si è creato ormai nel comitato e che quindi ci permetterà sicuramente, già abbiamo i progetti per il futuro quindi sicuramente andremo avanti con tanta volontà. E se il viaggio della sesta edizione si è concluso, quello del festival si prepara già ad una nuova tappa. La settima edizione del Cortona Mix Festival si svolgerà dal 18 al 22 luglio 2018. Abbiamo già appunto dato le date perché vogliamo ribadire la volontà forte di lavorare ancora per un ottimo Mix Festival nel 2018 e quindi già a partire da queste date potremo dire che il Mix Festival ci sarà e ci sarà sempre con una qualità migliore. Grazie a tutti.